Riscoprire il dono non come mezzo per raccogliere risorse ma come una delle modalità più efficaci per rendere l'umano umano. Progetti e programmi non devono essere il fine del nostro agire ma semmai i frutti da cui potranno riconoscerci. Sono alcune delle considerazioni emerse in un incontro dedicato al valore del terzo settore che si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli. Dai ultimi dati dell'Istat viene fuori una consistente riduzione del numero dei volontari e come se non bastasse non verranno spese tutte le risorse disponibili per il 5 per mille dato che molti cittadini hanno rinunciato a destinarlo agli enti non profit. Si tratta di dati preoccupanti che è necessario contrastare per il bene delle nostre comunità. Al dibattito sul futuro del variegato mondo del terzo settore abbiamo ascoltato Don Gennaro Matino affermato scrittore e teologo e Paolo Ricci, docente di economia. Molto interessante parlare di terzo settore, del suo valore e della volontà in qualche maniera di intraprendere un percorso di conoscenza ancora più significativo per uno spazio economico solidaristico. È un'occasione importante, qui si dibatte proprio il tema del valore, come il valore viene creato nel terzo settore, come viene distribuito e se ci sono strumenti per misurarlo ai fini della migliore distribuzione di questo valore tra i soggetti che concorrono alla sua realizzazione.